Si è svolta questa mattina la cerimonia conclusiva per la terza edizione del premio nazionale Monbaroccio Sarano, luci nel buio della Shoah. L'evento, che ha avuto come cornice il convento del Beato Sante, è dedicato alla memoria della famiglia Sarano. Più nello specifico, l'edizione di quest'anno ha voluto ricordare la figura di una delle tre sorelle Sarano, Vittoria, scomparsa da poche settimane e sopravvissuta allo sterminio ebraico grazie all'aiuto di persone incontrate proprio a Monbaroccio. Tanti gli elaborati giunti dalle scuole provenienti da tutta Italia. Tra i dieci istituti vincitori, i primi tre si sono aggiudicati un premio in denaro complessivo di 1500 euro, figura anche il liceo Mamiani di Pesaro. L'obiettivo è mantenere viva la memoria, la memoria di quello che è accaduto in quegli anni grigi, in quegli anni bui e tetri dell'olocausto per far sì che non riaccada. L'obiettivo è tenere viva la memoria nei ragazzi con questi elaborati, quest'anno hanno partecipato a 180 scuole, gli elaborati sono stati tantissimi, ringrazio la giuria che sta andata tanto da fare, ringrazio i frati che oggi ci hanno ospitato in questo bellissimo santuario che per noi è luce. Come ringrazio la dirigenza scolastica della Pirandello, cui i ragazzi hanno fatto parte come giuria, quindi anche i ragazzi stessi hanno partecipato alla valutazione dei progetti, tutte le associazioni territoriali e ringrazio in particolar modo sia Roberto Mazzoli, ma tutti coloro che hanno collaborato anche quest'ora che è venuto e tutti coloro che hanno partecipato. E un forte, fortissimo ringraziamento va alla comunità mumbaroccese, la quale a suo tempo ha tutelato e difeso quelle persone che erano vittime dell'olocausto e questo per me è un sinonimo di attaccamento sia del territorio ma anche della dignità umana. È cambiato qualcosa il progetto con il Covid? È cambiato tantissimo anche perché oggi torniamo in presenza, l'anno scorso l'abbiamo fatto non in presenza e le scuole sono state e hanno risposte in maniera eccellente perché a fronte di un disgregamento che ha portato il Covid in questi due anni c'è stata una forte coesione nell'ambito scolastico e anzi, come dicevo prima, gli elaborati sono cresciuti quindi la condivisione con le scuole è stata sempre più maggiore e sempre più importante.